All'italiano per le donne saranno premiate le prime 10 classificate con previ supplementari alle prime tre italiane. Anche questo di vivere una bella giornata facendo anche un... ... ... La biblioteca con il training di attenzione che partirà con la reda keniana di cui dicevo poc'anzi e sicuramente a reda del periodo ovvio, Alice e il simbolo, la reda keniana dell'anno 86, quindi l'atleta è di 26 anni, siamo quasi conti, rito ancora, gli atleti a portarsi indietro, così non fa, questi atleti qua davanti dobbiamo necessariamente andare indietro, si deve passare tutti indietro i tappetini del conometraggio, quindi se sono lì sulla linea, Zubani da tutti che vienci qua in prima linea a cercare di andare indietro, signori dobbiamo andare indietro, per indietro si devono muovere un po', non sarà questo ovviamente poi ci rimettiamo ai giudici, ai cronometristi e ovviamente, allora c'è ancora qualcuno in ritardo? Signori pensate di partire domani, forza forza aggiungetemi lì al gruppo, l'orario è perfetto, adesso aspettiamo da un momento all'altro, mantenete la calma perché adesso non spingete, soprattutto è il momento per gustare ancora una volta lo splendido spettacolo della corsa su strada, della mezza maratona che anche oggi qui a fa anche molto spettacolare, quindi... Grazie a tutti. E ringrazio tutti gli alpini, le contrade che hanno reso e anniettato anche con i rinfreschi, il pranzo eccetera eccetera. Ecco la polisportiva e quindi il gruppo atletica si contraddistinguono proprio per l'organizzazione. Questa è una manifestazione riuscita anche perché ha la base a tutto questo lavoro e questo impegno tra l'altro tutto a titolo di volontariato. Noi non facciamo che sostenerla quest'anno e anche negli anni futuri. Buona giornata a tutti. Grazie sindaco sportiva, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato e tutti quelli che hanno organizzato questa bellissima manifestazione. Atletica alla torre, un'ora 22, 27 e 57, scusate, lei è stata anche la migliore delle master. Silvia! Quinta Silvia Moreni sulla stessa distanza, vince con il tempo di un'ora 17.25, Alice Kibor, Jack and Boy, Kenya. Ecco, ricordiamo ancora le atlete che devono recarsi in segreteria per i giocatori del Paratico e terza di conseguenza Silvia Moreni, atletica alla torre. Facciamo 10 alla volta allora, ma... 27esimo Cristian Badini, Paratico, un'ora 17.01, questi sono i classificati dal ventunettimo al trentesimo posto. Undicesimo Isham Elbaruchi, colifattiva ipodrom, 99 Pontoglio, un'ora 10.44. Elbaruchi, eccolo buono. Keter, eccolo buono. Ottavo, Abdeladi Tiar, ricastello radici group, un'ora 4.50, Yassin Capuri, atletica Gran Sasso. Quinto classificato, Nixon Sijei, atletic Terni, un'ora 4.50. Quarto classificato, Ezechiel Meli, atletica Virtus Lucca, un'ora 4.40. E adesso siamo al podio. Terzo classificato, Iulus Kiprono Mutai, atletic Terni, civita Nova Marche, un'ora 4.04. Secondo classificato, Solomon Chirua Iego, atletica alla fratellanza, un'ora 3.21. Il vincitore dell'edizione 2012 della Alfa Marathon di Padenghi, con il tempo di un'ora 3.08, Robert Cemosin. Robert Cemosin, un'ora 3.08, molto vicino al tempo dello scorso anno di Mokaji. Adesso chiamiamo i primi sei della classifica degli atleti italiani. Primo classificato, Saeed Abudalia, atletica... Questi i primi sei atleti della nazionalità italiana. Allora, Bonomi, Anna Chiara Bonomi, va bene. Quinta, Erika Rocco, Carpenedolo, un'ora 40.28. Sesta, Veronica Bacci, atletica Lupa Totina, un'ora 40.33. Abbiamo anche la sesta, Olga Agnelli, mettiti là. Quarta, di venta, Olga Agnelli, prescia Marathon. Quinta, chiamiamo Penelope Polver, running adventure. E sesta, Flutura Mucca, Rebo Bussago. Di sesta, Elena, a Polone, running Cazzago San Martino, un'ora 36.01. Manca Lorenzoni, Cinzia Lorenzoni, è un'ora 38.16. Sesta, Cristina Agazzi, Marathon Cremona, un'ora 39.01. Sesta, Maria Vittoria Di Piero Antoni, GS Zeno Foramaio, un'ora 48.58. Sesta, Paola Chiodelli, prescia Marathon, due ore 9.17. Sesta, Paola Schiena, Fettra Sport, Regnago, due ore 25.48. Settimo, Federico Santicoli, paratico, un'ora 25.04. E ottavo, Eugenio Ducoli, paratico, un'ora 25.23. Niente, giorni di lavoro, Mauro Cirelli, Brescia Marathon, un'ora 20.44. Quinto, Domenico Lazzari, atletica apertica bassa, un'ora 20.47. Qui premiamo i primi dieci. Sesto, Claudio Del Moro, paratico, un'ora 20.54. Claudio Del Moro, eccolo qua. Settimo, Simone Pochetti, un'ora 21.46. Categoria Master 35. Cornolti, non ce n'è anche lui. Vavassori, ottavo, Angelo Longhi, Marathon Team Bergamo, un'ora 25.02. Nono, Manrico Baldi, Carpenidolo, un'ora 25.13. Il dicesimo, Nicola Federici, Rodengo Sagliano, un'ora 26.53. Settimo, Carlo Damioli, legniamo i pellegrinelli, un'ora 27.37. Il sesto, Giacomin, no, lui è il settimo. Giacomin c'è? Manca il sesto. Sesto, un'ora 29.42. Posto, grazie, grazie ai Master 50. Bellogia. Ah, va bene, ritira per lui. Ottavo, Giuseppe Bresciani, atletica paratico, un'ora 36.13. Bene, questi i Master 55. Settimo, Luigi Orlandini, runners Bergamo, un'ora 47.30. E ottavo, Mauro Sangalli, paratico, un'ora 50.21. Ottavo, Sangalli, ritira il Presidente del Paratico. Bene, questi ieri, lui. Non c'è Belotti, lui è spagna. Quarto, Giuseppe Lombardo, lumezzane, un'ora 40.55. Quinto, Ennio Bodei, U.S. Serle, un'ora 43.19. E sesto, Antonino Caffarella, paratico, un'ora 55.12. Settimo, lui. Bene, a posto, un attimo per le foglie. Quinto, Giovanni Conter, Mainetti Team, due ore 15.52. Bravo, Angio! E qui ci sono tutti. Bravo, Pini! Bravo, Pini! Bravo, Pini! Bravo, Pini! Nell'atletica è tutto un programma, Vento. ma faticaremo Bussaro un'ora 55 e 45 eh però è andato a cuore forte qui il cronometro dice un'ora 55 se poi hanno hanno corrotto quelli della TDS per farsi assegnare un'ora 55 e 45 bravo seconda società 11.939 punti atletica Brescia Marathon con 69 atleti Brescia Marathon ecco qua e vince la classifica di società con 15.304 punti e 78 atleti l'atletica Paratico abbiamo qui il presidente Tengattini che ritira il premio passare in segreteria per il ritiro del grazie ai rappresentanti dell'amministrazione comunale grazie a tutti voi buon ritorno a casa e ci vediamo sul campo di gara grazie a tutti grazie a tutti Grazie.